Un incontro con i parlamentari retini al quale sarà presente anche il sindaco di Arezzo Ghinelli è quello organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo il prossimo 1 febbraio alle ore 17 oggetto dell'incontro le problematiche conseguenti alla carenza di organico del Tribunale di Arezzo. Nella sede retina dell'Ordine degli Avvocati saranno presenti tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione nel collegio con il senatore Nencini, la senatrice Nisini, l'onorevole Ferri, l'onorevole Mugnai, l'onorevole Gagnarli, l'onorevole Dettore e l'onorevole Verini con la presenza anche del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo in una delibera dei giorni scorsi evidenziava uno spaventoso vuoto di organico sia dei magistrati togati sia del personale amministrativo una grave situazione nella gestione quotidiana dei processi penali e delle cause civili che in assenza di pronta e efficacia soluzione mediante copertura dei posti vacanti potrebbe determinare a breve il collasso dell'intera macchina processuale. Le istituzioni e le rappresentanze politiche amministrative aretine erano state esortate a confrontarsi su questi temi sia per gli aspetti legislativi di riforma sia per quanto riguarda il contesto territoriale per cercare le opportune soluzioni ai gravi problemi denunciati.